Che differenza c'è tra una telenovela e una soppopera? Che una telenovela prevede una fine, mentre una soppopera è creata con l'intento di non finire mai. Ma tu rimò poi finisce, anche il sentiero è chiuso. È vero. Allora, possiamo dire che sono tutte telenovelas? Si rifiutava di capire la differenza sostanziale che c'è tra una telenovela e una soppera. Per lei erano tutte telenovelas. Tra due ore vado al suo funerale. Dici sempre che non vengo mai a trovarti e adesso che sono qui mi tratti come un testimone di Geova. Non credo che tu voglia sapere come tratto i testimoni di Geova. Peloso, orecchie a sventola e pagli al posto del cervello. Si, tuo padre in soffro. Sono gay, mamma. Sono gay. Gay, gay, gay. Gay. Non è questo il punto. Lidia mi ha detto che tu hai spostato l'inizio della chemio perché ero arrivato io. È per questo che non volevi che restassi qua. L'ultimo mistero di Fatima è stato svelato. Magari è proprio di Robinson Crusoe. È una bottiglia della Coca-Cola. Non credo che all'epoca di De Poe esistesse già la Coca-Cola. Mi sarebbe venuto il cancro andare a vivere in quella città. Ok, come non detto. Ci potevo anche andare. La vedevo sfiorire giorno dopo giorno, cercando di nascondere la mia faccia appesa. Ma dov'è il mio cappello? Quale cappello? Il cappello che mi ha regalato la mamma. Ce l'avevo prima. Ma dov'è finito? Non avevi nessun cappello, mamma. Un cappone! È un cappone! È buono da mangiare, ma non sarà mai niente di più che un cappone! Non funziona! Dove vai? A fare la valigia. Me ne vado. Se resto un minuto di più qui dentro, io non rispondo di me. Oddio, ci voleva così poco per farti andare via. Ma hai anche la spiritosa! Io la provate tutte? Sì. Avevo paura, va bene? Paura! Ho avuto paura anch'io, Adamo. Io non posso stare qui a guardarti morire. Ma perché? Perché lo faccio io e non lo lascio fare il cancro. È questo che mi stai dicendo. Io... Io non sono pronto. Una volta ho un'interrogazione e gli ho chiesto chi ha scritto, Iliade. Sai che mi ha risposto Eneide. Quindi possiamo dire che sono tutte telenovelas. Anche la vita. Stanotte, di getto, ho scritto una commedia e si intitola Segreti di famiglia. Parla di mia madre, parla di me. E... Oddio, che stupido! Ma questo voi... lo sapete già? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.